Buongiorno, sono Enzo Campanella, ci troviamo qui a Capo d'Orlando con Giovanni Promesse dove stiamo cercando di valutare un po' di ragazzi che sono presentati per poter far vedere le loro potenzialità e la loro qualità in modo tale che possano avere una loro opportunità e una chance per potersi far vedere anche da altre squadre professionistiche. Stanno lavorando bene, sono ragazzi che hanno tanta voglia, tanta determinazione e come ripeto, Giovanni Promesse dà loro un'opportunità che è anche a noi di stare in campo con loro e fare esperienza e conoscere anche altre realtà calcistiche.